Ok, quindi noi siamo arrivati nell'ora precedente a scrivere questo codice che esegue una prima query e salva i risultati in una lista. Ovviamente questo l'abbiamo fatto dentro un programma main, ma noi normalmente non avremo il programma main, avremo l'interfaccia grafica, il programma JavaFX, che poi al suo interno avrà i vari dati. Quindi adesso ci occupiamo di cercare di migliorare un pochino il modo in cui questo viene integrato dentro il nostro programma. Vi vediamo qualche dettaglio in più, suggerimenti in più su come gestire le cose. Allora, prima avevo forse saltato. Noi abbiamo fatto una query come questa, che era una query molto semplice. La caratteristica di questa query è che non aveva nessun parametro, era sempre questa. Ma immaginiamo invece che il nostro programma ci chieda di dire, ma senti, se io ti scelgo una forma di UFO, quanti sono gli avvistamenti di quella forma lì? Allora avrei una query del tipo, prendiamo interattivamente, dov'è andato a finire l'ID che si è spostato di schermo, ok? Avrei un'altra query del tipo, magari conta, io voglio contare, select, che si asterisco, from siting, where shape uguale round, ad esempio. Ok? Quindi, dammi tutti quelli che hanno una forma rotonda. Round era una delle forme precedenti, no? Pesso questa perché ce ne sono solamente due. Poi magari non voglio sapere quali sono, ma mi interessa solamente sapere quante righe ci sono, ok? E quindi avrò due. Quindi è una query che, data una forma, round, mi dice quanti ce ne sono. Poi se io invece cercassi un circle, magari mi dice che ce ne sono 7000. No, sono molto più avvistamenti di cerchi che non rotondi, che non sfere. Va bene. Cosa succede? Che questa parolina qua arriva dall'utente in qualche modo. Sarà l'utente che mi dice qual è la forma che vuole. Quindi io dovrò inserire dentro la mia query in Java una stringa che arriva dall'utente stesso. E la prima tentativa potrebbe essere una cosa di questo genere. Adesso lasciate perdere che la query qua è diversa, ma avere una query in cui a un certo punto c'è una condizione, vuoi sempre se è una condizione where, in cui devo scrivere where, la colonna uguale, apice, chiuso apice e in mezzo ci inserisco una cosa che arriva dall'utente interattivamente, dall'interfaccia. Perché devo costruire una query che dentro abbia un pezzettino, una parolina, una stringa che l'utente ha inserito in un campo di testa, magari, oppure ha selezionato da una tendina dell'interfaccia grafica. E quindi costruiamo la stringa. La nostra query non è più una stringa costante, ma una stringa costruita mettendo insieme pezzettini fissi, diciamo di template, e pezzettini variabili che arrivano dall'utente. Allora, questa è una schifezza, come tutte le cose costruite mettendo insieme le stringhe, perché è scomodo, è totalmente illegibile, tutti questi apici chiuso, aperto, più, eccetera, se dovete leggere questa query non ci capisco più niente, e soprattutto esiste un metodo molto più semplice, molto più pulito, che è quello dei cosiddetti prepare statement. Quindi andiamo a vedere subito questo, così andiamo a modificare il nostro programma prima poi di imparare come integrarlo meglio. Quindi se noi andiamo avanti, dopo questa parte qua, che di fatto abbiamo solamente saltato questa tabella che ti dice qual è la conversione tra i tipi di dato del database e i tipi di dato Java, ma questi sono abbastanza, diciamo così, mappati in modo ragionevole. Sui prepare statement, allora, riprendiamo questo esempio che c'era nell'esale precedente. Supponiamo che da una casallina di testo username l'utente abbia inserito qualche cosa, ok? E quindi dobbiamo costruire una query che vada a selezionare una tabella degli utenti del nostro sistema all'utente che ha questo username specifico. E questo è il modo per costruire la query concatenando i vari pezzi. Questo modo qua, che è appunto il primo che ci viene in mente, ha tutta una serie di problemi. Il primo di tutti è la sicurezza del sistema. Immaginate che ci sia un utente strano, un po' strambo per carità, che quando gli chiedi nella casella di testo di inserire il tuo username, anziché scrivere il suo username vero e proprio, Pippo, ti scrive questa cosa qua, che io ho qua riportato in blu. Apice, punto e virgola, delete asterisco from users, punto e virgola, trattino e trattino. Io mi chiamo così, mi sono svegliato un mattino e mi chiamo così. Allora, vabbè, non glielo puoi impedire, nel senso che nella casella di testo lui scrive ciò che vuole. Ma poi immagina che questa cosa qui vada a finire nella variabile user, quindi qui dentro ci va a finire apice, punto e virgola, eccetera, eccetera, e questa stringa SQL ottenuta facendo la concatenazione di questo pezzo di stringa più questa stranezza che ha inserito l'utente, mi dà questo risultato che ho evidenziato qua nel blocco rosso. Select asterisco from users where username uguale fino a qui è il primo pezzo di stringa che sto concatenando. Apice, punto e virgola, delete, eccetera, eccetera, è il nome dell'utente che arriva fino a qui. e poi ho l'apice finale che era qua, che era questo qui. Allora, se io leggo questa cosa qua, la prendo, la metto in un statement, la mando in un database, il database che cosa fa? Il database qua vede due istruzioni, cioè il punto e virgola che separa due istruzioni, la prima istruzione, scegli dalla tabella utente tutti i campi in cui lo username è vuoto, lui probabilmente in questa select ritornerà l'insieme è vuoto, poi esegue questa abice di istruzione, delete asterisco from users. Questo trattino trattino è il carattere di commento in SQL che serve per evitare che questo apice genere un errore di sintassi e quindi la query non venga eseguita. Quindi che cosa ho fatto? Semplicemente inserendo in un campo di testo, in un'interfaccia, un dato formato in modo particolare, formato in modo particolare, ho fatto sì che il server eseguisse questa istruzione che cancella tutti i dati. Questo le chiama SQL injection, cioè iniettare attraverso degli errori di programmazione dell'interfaccia utente, delle superficialità nella programmazione dell'interfaccia utente, iniettare dentro il programma dei pezzi di query che poi vengono eseguiti sul database. E quindi quando lui inserisce questo praticamente ti cancella tutti i dati dal tuo database, che non è sicuramente piacevole. Perché succede questo? Ma perché l'utente ha inserito come dato dei caratteri che sono caratteri speciali della sintassi e SQL e però quando li metto insieme in questa concatenazione di stringa non c'è distinzione tra questo apice che io so che deve esserci e quest'altro apice che l'utente ha inserito. Perché quando sono concatenati sulla stringa sono tutti uguali e quindi vengono interpretati, cioè il database interpreta la sintassi completa di tutta la stringa. Cosa dovrei fare? Beh, qualcuno dice ma dovresti controllare il carattere che ha inserito l'utente. Quindi l'utente se per caso inserisce un apice non va bene, se per caso inserisce un punto di virgola non va bene, se inserisce un a capo non va bene, se inserisce... Dovresti, come si dice in gergo, sanificare, adesso siamo abituati a sanificarci le mani, sanificare l'input, cioè cancellare, rimuovere, prevenire nell'input tutti i caratteri che potrebbero essere interpretati male. Però questa è una battaglia persa in partenza perché ci sarà sempre l'utente che scopre un modo più strano di fare una cosa a cui tu non avevi pensato e quindi non avevi controllato, non avevi sanificato. Conviene prendere invece un approccio diverso, cioè dire ok, i dati inseriti dall'utente non sono mai affidabili, non vado mai a controllare cosa c'è dentro, ma farò in modo che non possano, diciamo così, essere usati in questo modo. Non devo mai mescolare le mie query con i dati dell'utente, perché sennò rischio di creare problemi. Poi ci sono un po' delle vignette, tipo questo tizio qua che pensava di sfruttare questo per, se per caso lo catturavano con l'autovelox, nella lettura della targa, prova a fare, diciamo così, SQL injection dentro l'autovelox, cancellando le tabelle. non so se funzioni, poi ci sono varie, anche vignette, come la tizia che ha scritto il figlio a scuola con un nome Drop Table Students, sempre con apice, punte virgola, e la scuola si sono lamentati che tutte le volte che inseriscono il suo nome cancellano tutto. Vabbè, ma queste sono battute che però non ci devono far perdere la nozione che comunque accettare i dati che arrivano dall'utente possono essere sempre pericolosi, soprattutto se poi io li uso per fare una query su un database con i privilegi miei della mia applicazione su quel database lì. Poi ci sono anche delle altre ragioni di prestazioni, ma queste ci interessano molto meno. La soluzione è quella? Arriviamo direttamente alla soluzione. La soluzione è non usare la classe Statement di JDBC, che è quella che abbiamo visto prima, ma usare una classe separata che si chiama Prepare Statement. La Prepare Statement funziona in modo leggermente diverso, ti permette prima di creare uno Statement e nella creazione di questo Statement puoi definire dei parametri, quindi puoi creare, definire una query parametrica. E poi, nel momento in cui la eseguirai, potrai fornire il valore di questi parametri. Quindi il valore dei parametri, tipo la forma dell'UFO, non viene più iniettato, concatenato dentro la stringa. Ma la stringa è pulita e poi, a parte, c'è un metodo separato che dice, guarda, il primo parametro assume questo valore. Questo fa sì che al database arrivino separatamente la stringa e il valore, con una modalità interna che non ci interessa, e quindi questo valore, anche se contiene dei caratteri speciali, non potranno mai essere confusi per dei caratteri di controllo della stringa della sintesi SQL proprio perché arriva, diciamo così, con un comando separato. E quindi il database stesso non confonde la cosa. Non creiamo mai una stringa unica che mette insieme pezzi di codice nostro, pezzi di SQL nostro, con pezzi di dati dell'utente. Tra l'altro, la cosa carina è che questa operazione qua fa anche tutta una serie di conversioni di tipo automatico, perché finché il parametro è una stringa va bene, ma quando fosse un intero tu devi stamparlo, convertirlo in string, se fosse un oggetto devi chiamare il tuo string giusto, eccetera, eccetera. Mentre invece questo viene fatto automaticamente dall'oggetto prepare statement. E se ci sono dei caratteri, diciamo così, pericolosi, vengono automaticamente, diciamo così, o eliminati o comunque trasformati. O tra l'altro, anche senza voler fare cose cattive, ma se uno è il nome che finisce con l'accento, l'apostrofo o l'accento, e questo qua già di per sé creerebbe dei problemi con l'acquiri, perché ci sarebbe un apostrofo che potrebbe essere confuso come il carattere di finistring e ne se quelle. Quindi anche per cose semplici, senza andare a pensare a, diciamo così, utenti maliziosi, ci possono essere dei caratteri che scritti in un asquiri e se quelle devono essere trattati in modo particolare. E quindi tanto vale usare questo meccanismo di PerperString. Come funziona? È molto semplice. Quando io definisco la stringa, se ho dei parametri che devono essere, quindi dati, che devono essere forniti dall'utente più avanti, allora al posto di questi parametri metto un punto interrogativo. Attenzione, non metto gli apici, non è apice, punto interrogativo, apice. Questo no. Perché questo inserirebbe è un parametro che ha la stringa uguale al singolo carattere di apice. semplicemente un punto interrogativo normale. Gli apici, se ce ne bisogna, li aggiunge da solo. Se li aggiunge lui. Quindi questo è il template, il modello della query che vogliamo fare. E quindi creo, quando creo uno statement, non uso l'istruzione Create Statement, ma uso l'istruzione Prepare Statement, che vuole già l'informazione su qual è la query, il modello di query da eseguire. Quindi è una query fatta a metà. C'è già la struttura, mancano dei parametri. Al posto dei parametri ci sono dei punti interrogativi. Attenzione che i parametri possono essere usati solamente per i valori, non per i nomi delle tabelle, non per i nomi delle colonne. Solamente per i valori costanti che uno ci mette nelle query. Poi, prima o poi questo statement dovrò eseguirlo. Execute, execute insert, execute update, execute query, i vari metodi execute che abbiamo visto. Quelli di statement sono uguali a quelli di prepare statement sono uguali a quelli di statement. Stessa cosa. Ma, chiaramente, prima di eseguirla dovrò dare un valore specifico a ciascuno di questi parametri. E come lo faccio? Lo faccio con dei metodi set sullo statement. sul prepare statement. Quindi, gli dico, guarda, questo metodo set ha due parametri. Il primo è il numero d'ordine del parametro. Quindi, uno si riferisce al primo punto interrogativo, due si riferisce al secondo punto interrogativo che c'è nella query e così via. E dopo segue il valore specifico da inserire, da sostituire a questo parametro. Questo valore sarà un oggetto, sarà un intero, sarà una string, eccetera, e viene trasferito in modo sicuro, safe, al server, senza nessun rischio o problema di gestione errata della sintassi. Ok? Quindi, non è particolarmente più complicato questo metodo, ma ci risolve moltissimi problemi di interfaccia, moltissimi problemi di sicurezza, in parte anche problemi di prestazioni e quindi noi lo useremo sempre. Quindi, anche su query semplici che non abbiano parametri, a questo punto abbiamo preso l'abitudine e usiamo il prepare statement sempre. E quindi, nel nostro codice possiamo già subito modificarlo, ma come vedete sarà una cosa da nulla, anziché uno statement creiamo un prepare statement dove il metodo da usare non è più create statement ma è prepare statement. La differenza è che, allora, chiaramente devo importarlo, questo qui, prepare statement già vuole le SQL come parametro, quindi questa string SQL la devo già definire sopra. e quindi quando poi farò l'execute query l'SQL non glielo passo più. Ok? Quindi, sono infinitamente cambiato l'ordine. La string SQL non la passo al momento della query ma la passo al momento della preparazione dello statement. L'unica differenza. In questo caso questa query non ha dei parametri è sempre uguale o costante e quindi non ho bisogno di inserire dei punti interrogativi. Ma se volessi fare una seconda query in cui, appunto, dicevamo vado a vedere il numero di UFO di una certa forma lo possiamo fare lo possiamo fare qua sotto quindi definiamo una stringa SQL2 uguale se andiamo prenderci questa qui select count eccetera eccetera possiamo anche scrivere su una riga sola tanto questa qua è breve così non abbiamo problemi via capo e al posto di shape uguale circle mettiamo semplicemente il punto interrogativo attenzione senza gli apici queste virgolette qua semplicemente sono virgolette di java e non sono quelle delle sequenze quindi questa è una query parametrica in cui la shape è lasciata indicata noi supponiamo che magari il nostro utente abbia scelto shape scelta sia appunto round no sì l'ultima che abbiamo fatto era round no circle dove c'erano tanti questa è semplicemente una stringa che potrebbe arrivare ops perdono in java servono gli apici doppi che potrebbe arrivare dall'interfaccia utente da una casella di test eccetera eccetera allora per fare questa query cosa farò? mi faccio preparare uno statement statement 2 sempre dalla stessa connessione perché la connessione è una sola su questa stessa connessione posso far viaggiare diversi statement no il tunnel è uno solo posso viaggiare diverse navette se vogliamo mettere step 2 punto close se voglio fare la persona ordinata e in mezzo eseggo l'istruzione quindi result set result set 2 uguale step 2 punto execute query e come vedete execute query in questo caso non ho bisogno di specificare una sql ma prima di eseguire la ok se io provassi a eseguire questo vediamo subito un'eccezione che salta fuori mi direbbe parameter at position 1 parameter at position 1 is not set noi ho tentato di eseguire una query parametrica che contiene un parametro senza aver impostato il valore di tale parametro perché questa query è una query incompleta devo dire che il valore del primo parametro è uguale alla shape scelta dall'utente in questo caso l'ho messa come costante perché siamo in un programma di prova e quindi dobbiamo dopo che ho preparato lo statement e prima di eseguirlo impostare il valore del parametro quindi statement 2 punto set questo è una stringa string il primo parametro con vabbè shape scelta a questo punto posso estrarre il valore quindi la query verrà fatta e dal result set 2 potrò estrarre il valore che ho ottenuto in questo caso io so già che questa visto che una query è un account avrà di sicuro una esattamente una riga quindi io potrò posizionare direttamente il result set sulla prima sulla prima riga first muovo il cursore sulla prima riga del result set che io so già che è anche l'ultima posso chiamare first posso chiamare next è uguale in ogni caso me lo posiziono sulla prima riga e poi posso estrarre il valore quindi integer int count uguale result set 2 punto get int della colonna che si chiama ecco come si chiama questa colonna si chiama count di asterisco che però è un po' scomodo allora diamogli un altro nome as count magari cnt con l'operatore es sulla select rinomino le colonne e così ho un nome un pochino più comodo cnt da usare quindi qui modifico anche la query rcnt e quindi estraggo la colonna che si chiama cnt fate dei count e cose di questo genere conviene sempre dare un nome significativo al risultato della colonna altrimenti divenne il count il nome della colonna diventa strano ok e a questo punto posso stampare out.println che abbiamo che ufo di forma quanto sono shape scelta sono due punti aggiungo il valore count ok proviamo a seguire poi riguardiamo insieme le varie linee ufo di forma circle sono 7607 allora cosa abbiamo fatto volevamo eseguire questa query questa query ha dei parametri ok allora la definisco col simbolo di punto interrogativo dove ci sono i parametri poi ho i vari passaggi la connessione l'avevo già aperta creo lo statement prepare statement quindi lo statement 2 è stato preparato anziché usare create statement abbiamo imparato chiamiamo sempre il metodo prepare statement e riceve la stringa contenente dei parametri fatto questo posso impostare il valore dei parametri quindi in questo caso c'è un parametro solo quindi uno indica il primo punto interrogativo è già solo lui e questo è il valore da dare al parametro da sostituire in quel punto nel punto interrogativo ok non mi devo preoccupare della sintassi degli apici delle virgolette no qui semplicemente qui c'è un placeholder di un parametro e qui c'è il valore di tale parametro sotto forma di oggetto java in questo caso un oggetto string ci pensa lui a trasferire il valore e poi esegue la query esegue la query qui non c'è nessun parametro in execute query perché la query sa già che dovrà mandare quella SQL che ho preparato più questo parametro che ho settato e quindi execute query mette insieme le cose e le manda a questo punto estraggo i risultati sapendo in questo caso è una query come dicevo di tipo account e quindi di sicuro avrà una sola riga esattamente una riga quindi posso direttamente posizionare il corso sulla prima riga anziché fare questo ciclo while in cui sarei sicuro che farebbe un'interazione sola quindi sarebbe un po' spaccato come codice e vado a leggermi direttamente quel dato ok quindi questo è un po' alla fine che abbiamo mescolato un po' di esempi ma alla fine si ritrovano quasi tutti i casi di una query senza parametri e quindi non c'è problema vado direttamente dal prepare all'execute una query con parametri che tra il prepare e l'execute ovviamente dovrà fare dei set dei parametri poi abbiamo altre due differenze una query che restituisce una lista di risultati e tipicamente abbiamo un ciclo while per estrarla oppure query che restituiscono un risultato solo e allora possiamo andare direttamente chirurgicamente a prendercelo sulla prima riga Alessandro mi chiede se nel primo esempio è cambiato solamente le righe 26 e 28 sì e ho spostato la riga a 21 cioè la query che prima era qui in mezzo l'ho spostata sopra perché chiaramente mi serviva già sul prepare statement ok quindi io magari adesso faccio un commit così abbiamo scongeliamo questa versione ok quindi diciamo versione on prepared statement sì mi sono dimenticato di salvare prima di fare commit ok ok quindi abbiamo congelato questa versione qua e questo sarà il modo diciamo così con cui lavoreremo sempre adesso questo è un programmino stand alone un main che fa solo questo come facciamo queste operazioni qua a integrarle nel nostro nel nostro programma grafico nel nostro programma JavaFX e dobbiamo aggiungere dei pezzi dobbiamo ragionare diciamo così sull'architettura dell'applicazione quindi sui pattern di programmazione allora per quanto riguarda l'accesso al database si usa un pattern si usa chi vuole ovviamente però il nostro suggerimento è usare un pattern che si chiama DAO che sta per la faccio breve dove andiamo a finire data access object DAO questo ci risolve una serie di problemi che in qualche modo separano tutti i metodi di accesso al database che alla fine devono fare i conti con la libreria JDBC quindi con tutti i meccanismi delle eccezioni non eccezioni lo statement il result set eccetera eccetera che è molto specifico sarebbe bello separarlo rispetto al resto dell'applicazione ok quindi noi cercheremo di avere un'applicazione che può accedere un database ma senza sapere neanche i nomi delle tabelle neanche le query e le altre classi che invece sono dedicate a fare le query essenzialmente queste classi che sono dedicate a fare le query sono le cosiddette classi di accesso ai dati oggetti per l'accesso ai dati per gli amici i DAO ok qui noi abbiamo il client che è la nostra applicazione e in realtà nel nostro caso questo qui sarà quasi sempre la classe model perché è il modello che ha bisogno dei dati i controller o gli altri dice ah qui vorrei sapere quali sono le forme degli UFO ok bravo a chi lo posso chiedere al database al database direttamente però dovrei fare la query eccetera eccetera ah ma no ho una classe apposta che è pensata per fare le query che è una classe DAO la regola che ci diamo è che solamente nelle classi di tipo DAO possiamo usare JDBC decidiamo di importare le classi JDBC solamente negli oggetti DAO che fanno solo quello eseguono operazioni senza sapere a cosa servono cioè la classe DAO è fatta di una serie di metodi che fanno una serie di query incapsano delle query ma loro non interessa l'ordine con cui chiami le query il motivo per cui le chiami da dove provengono i dati quello è un problema poi del modello o del controller a seconda ciascuno per la propria parte questo metodo qua si concentra su un problema solo fornire l'accesso ai dati del database e come lo fa con una serie di metodi usando ovviamente tutta la parte del JDBC driver manager result set prepare statement eccetera eccetera che a questo punto sono confinati dentro le classi DAO e usando degli oggetti per poter traghettare i dati avanti e indietro tra il modello e il DAO quindi in qualche modo il DAO deve conoscere le classi del modello ricordate il nostro esercizio la classe voto ad esempio ovviamente se io faccio la query dei voti del libretto la classe voto dovrà essere nota al metodo che fa la query per potermi costruire l'oggetto però questi oggetti che contengono dati puri non sanno perché non sanno chi li riempie non sanno chi li usa che chiamiamo a volte si chiamano data transfer object o transfer object o semplicemente oggetti e basta che sono usati come tramite tra il modello e il DAO e il DAO a sua volta sarà useraggio di BC come tramite verso il database vero e proprio quindi il 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 essenzialmente di questo tipo abbiamo l'oggetto DAO che è l'oggetto che creiamo che contiene tutta una serie di metodi read leggi leggi crea crea nel database leggi dal database aggiorna nel database eccetera eccetera che sono metodi che sono usati tranquillamente nella nostra applicazione questo client diciamo come l'abbiamo detto prima lo riscriviamo è il modello quasi sempre e ovviamente condividono degli oggetti che possono essere usati per comunicare per contenere risultati o i dati eccetera eccetera la l'interfaccia dei metodi del DAO è un'interfaccia ad oggetti ok quindi vedete quando faccio read di un oggetto restituisco un oggetto o una lista di oggetti non restituisco una stringa o result set peggio ancora ok quindi tutte le operazioni che hanno a che fare con lo spacchettamento o l'impacchettamento di dati nel database la conversione dei tipi di dato eccetera la mettiamo dentro il DAO adesso in realtà questo discorso qua è fin troppo complicato vediamo subito di trasformare il nostro programmino in una classe DAO che contenga i metodi che ci servono l'idea è che questa classe DAO sia una classe che contiene solamente metodi e nessuno stato cioè la classe DAO non ha variabili interne alla classe ma ha solamente metodi ovviamente sono le variabili interne ai metodi ma quelle finiscono una volta finito il metodo perché tutto lo stato ce lo deve avere il modello ok tutto lo stato lo manteniamo dentro il modello anziché dentro il DAO e quindi il DAO semplicemente ha una collezione di metodi e basta metodi che in realtà sappiamo cosa fanno interagiscono col database se avessimo un database molto complicato con tante tabelle probabilmente di classi DAO ne faremo tante una per ogni tabella o per ogni gruppo di tabelle o per ogni tipo di date ma questo però la filografia di impostazione sarebbe sempre la stessa e questa classe tipicamente offre i metodi per creare leggere aggiornare ma soprattutto leggere i dati noi nel nostro tipo di programmi avremo molto spesso un database che contiene tanti dati e vogliamo leggere qualche cosa estrarre qualche cosa oppure ricercare delle informazioni quindi delle query più complicate che non è semplicemente dammi i dati ma è trovami il dato che allora facciamo le joint tabelle i filtri eccetera eccetera questo vediamo dopo proviamo a trasformare quindi il nostro programma creando non una classe testdb ma a questo punto una classe facciamo solo un po' di copia e colla spostiamo solamente i dati una classe che potremmo chiamare siting dao questa classe siting dao sarà la classe che la lascio in questo package db in questo package db alla classe nel quale metterò i metodi appunto di accesso al database Mario mi chiede se posso dichiarare dei metodi statici no non è necessario anzi è meglio usare dei metodi normali soprattutto perché a questo punto gli permetterebbe volendo di avere una sottoclasse del dao che magari la specializza ulteriormente con delle quiz in più se ne hai metodi statici invece non li puoi definire quindi no ci usano metodi normali si istanzia quella classe sapendo che poi in realtà non ha stato però è comunque un oggetto di una certa di una certa classe static lo usiamo il meno meno possibile in assoluto allora diciamo questa classe site in dao che avrà come metodo ad esempio uno che mi dà l'elenco delle shape l'elenco delle forme quindi potremmo chiamarlo public mi dà una lista di string read shapes dal database e poi potrò avere un altro metodo giusto per impacchettare quelli due che avevamo public int count by shape e riceve una shape come parametro questo potrebbe essere un'interfaccia dei due metodi che abbiamo appena implementato per gioco nel nostro main di prova adesso implementiamo solamente questo e dentro questa classe ci possiamo andare semplicemente a schiaffare il codice di prima al 90% allora la parte che deve leggere le shape la prendiamo dalla prima metà del programma questa qui poi la corregiamo perché siamo pura a correggere e quindi possiamo prendere questa la query prepare statement execute della query e poi questa lista che abbiamo calcolato forme ufa o forme ufo è proprio la lista di stringhe che possiamo usare come valore di ritorno adesso qua si arrabbia perché jdbcurl non la conosce allora la potremo mettere effettivamente come variabile questa di classe anche se non mi piace la cambiamo subito e qua ovviamente si arrabbia perché ci sono tutti i try cache da mettere a posto e quindi facciamo un try e il cache lo mettiamo bello in fondo così per il control alt F per indentare il control F per indentare allora vediamo cosa abbiamo fatto read shapes questa connessione in realtà la possiamo anche mettere qua tutto dentro un unico blocco tra i cache che va a catturare l'eventuale SQL exception nel caso in cui tutto vada bene esegue quella query di prima poi l'ha formattato male perché è andato se l'ha rimessa insieme ma vabbè quindi a questo punto facciamo che metterla in una riga sola prepare statement execute query qui esattamente il stesso codice di prima solo che il valore la lista forme UFO che avevamo creato è il valore di ritorno di questa funzione poi c'è ancora un errore che mi dice attenzione che mi manca il valore di ritorno in alcuni casi ma perché ti manca il valore di ritorno l'ho ritornato qua si l'ho ritornato qua ma non l'ho ritornato nel caso della SQL exception quindi in realtà potremmo dire che in questo caso non dovrebbe succedere possiamo ritornare un ad esempio per indicare che è andato qualcosa storto oppure meglio ancora visto che non ci aspettiamo che questo metodo debba generare eccezione normalmente non lo deve fare se no se è un banco nostro sarebbe bene propagare questa eccezione perché se io facessi così e poi ritorno nullo oppure ritorno una lista vuota qualcosa di questo genere c'è il rischio che l'eccezione venga non vista o non notata ok perché la sto in qualche modo nascondendo c'è stata un'eccezione ma vabbè continuiamo lo stesso invece uno potrebbe la cosa migliore da fare qua potrebbe essere quello di dire genero una nuova runtime exception così con dentro la copia dell'eccezione che abbiamo generato quindi in questo giochino cosa sto facendo sto catturando un'eccezione non so che cosa farci perché non la so correggere e quindi ribalto questa eccezione al mio chiamante però al mio chiamante non ribalto SQL exception perché il chiamante non sa SQL abbiamo detto che non vogliamo che il chiamante conosca nulla di JDBC e quindi la converso la incapsulo la contengo dentro una runtime exception generica che può saltare fuori quindi in qualche modo il chiamante o fa lui un try catch della runtime exception oppure l'eccezione verrà poi stampata e bloccherà il programma in alcuni casi l'eccezione la possiamo gestire localmente quindi stituziamo 0 stituziamo null in questo caso non vogliamo cancellarla c'è tutto le import quando ho fatto copia e incolla e Clift le ho già messe a posto e poi posso fare la stessa cosa per il secondo metodo anche qua sarà questa cosa qui la prendo posso già subito scrivere il mio bel try ci metto dentro il codice e catch equal exception e ce la faccio scriverlo row new run time exception e volendo posso aggiungere un messaggio quindi run time exception potrei aggiungere vedete che c'è una seconda parametro che può essere di tipo stringa database error in magari ci mettiamo il nome del metodo rich shapes ad esempio no è il contrario prima la stringa poi l'eccezione mi scrive un messaggio in più e poi mi scrive tutta la traccia dell'eccezione e qui possiamo chiamarlo database error in count way shape io allora per rispondere a Mario non ho messo il throw SQL exception ma run time exception perché SQL exception è un'eccezione definita in java.sql e noi ci eravamo dati come regola il fatto che al di fuori della classe DAO nessuno doveva importare metodi di JDBC e allora lo devo tradurre in un'eccezione normale non legata a JDBC è una scelta nostra però di ordine manca connessione.close grazie manca in tutti e due i casi sia qua sia qua in realtà in questo secondo manca anche proprio la creazione della connessione quindi posso devo prendere queste due qua questa istruzione e portarmela anche sotto ok fado un po' di refactor mi ho spostato codice da una parte all'altra string shape no scusate non è string shape è un int quindi questo parametro shape è quello che devo usare non è più scelta lo tolgo perché non lo inserisco più direttamente ma lo inserisco così shape è il parametro che mi ha dato l'utente e quindi questo numero intero lo ritorno return di questo int di count ricordiamoci di fare connessione punto close prima di return perché dopo il return ovviamente la funzione muore allora se è così è molto semplice andare a modificare il database di test il database di test usando questi due metodi Giorgio ti risponde tra un attimo sulla connessione e quindi io potrei dire va bene tutta questa cosa qua non mi serve più del mio main tutti questi dettagli qua li abbiamo spostati in una classe che fa quello di mestiere quindi anche questi questi java punto sql eccetera eccetera li togliamo e noi avremo semplicemente un metodo che può creare un oggetto DAO quindi siting DAO creando una nuova classe questa classe è semplicissima non ha costruttore non ha metodi non ha attributi da inizializzare e poi potrò a questo punto crearmi una lista di string che sono le shapes le forme dell'UFO semplicemente chiedendo al DAO senti per favore DAO mi dici quali sono le forme e string non string e poi magari per ciascuna di queste forme mi dici quanti ce ne sono quindi magari per tutte le forme di forme UFO che è una lista allora chiediamo facciamo la query per sapere quanti ce ne sono e quindi potrebbero essere int count quale DAO chiediamo al DAO quanti ce ne sono di questa forma e poi lo stampiamo questo è il punto DAO punto print line UFO di forma forma sono c'è uno spazio punto punto virgola vediamo al release che non ci serve più in questo modo abbiamo un man che è molto molto più pulito chiama i metodi del DAO ogni metodo e quindi sa che cosa vuole fare lo scopo è di trovare tutte le forme e stamparle e i metodi del DAO in realtà fanno il loro lavoro in questo caso eseggono una query non parametrica e mi restituiscono una lista di risultati nel secondo caso eseggono una query parametrica e mi restituiscono un intero se tutto funziona facendo run dovrai ottenere la statistica degli UFO di varie forme e quanti sono per ciascuna delle forme questo non è il metodo più efficiente ovviamente perché ho fatto tante piccole query quando avrei potuto fare un'unica query già contando facendo il count e il group by ma non stiamo pensando all'ottimizzazione per il momento stiamo cercando di strutturare il codice quindi questo questa classe DAO mi permette di avere il codice diciamo così sporco di basso livello vicino al database quindi la query gli spazi da mettere a posto i parametri le eccezioni tutte gestite in un modo ordinato già così dentro una sola classe che ha solo quel lavoro lì da fare e invece il chiamante è molto più pulito chiama questi metodi del DAO ogni volta che devo accedere al database ok ci rimane ancora e mi rialetto la domanda di Giorgia il problema della connessione perché in questo caso io avrei allora c'è due problemi uno è chi crea la connessione e l'altro è quando creare la connessione allora chi crea la connessione è la classe che conosce questo indirizzo e in questo caso va benissimo qua tra virgolette perché abbiamo un DAO solo ma se avessi un programma più complicato dove di classi DAO ce ne sono più di una diventa un po' antipatico avere questa stringa JDBC replicata in tutte le classi DAO diciamo così di cui il nostro programma sarà composto allora mi piacerebbe molto di più riuscire a spostare questa competenza cioè so dove è il database so come creare la connessione e spostarla in una classe a parte e così se ho più classi DAO questa classe a parte in realtà la condividono tutti ok quindi io potrei creare un'altra classe che posso chiamare DBconnect che fa quel lavoro lì di conoscere qual è la stringa di connessione quindi lo sposto di qua ok e magari mi fornisce già il metodo per fornire per la connessione stessa quindi qui posso fare giocare un pochino e dire va bene io la connessione non la chiedo al driver manager che è una classe di libreria ma la chiedo al mio DBconnect e a questo punto DBconnect sa già qual è l'urlo e non te la devo e non me la deve più specificare quindi io definisco un metodo getConnection dentro di DBconnect che sarà un metodo a public static connection e connection sarà ovviamente java punto e sequelle è un metodo statico perché a sua volta lui chiama il metodo statico di driver manager quindi usiamo lo stesso pattern di programmazione però anziché driver manager usiamo il nostro specie di piccolo driver manager un pochino più intelligente perché sa già dove si trova il database e questo getConnection che cosa farà mai? non farà altro che questa istruzione qua di prima chiederà a sua volta il driver manager return driver manager getConnection della jdbcURL jdbcURL ah devo fare la statica anche qua posso direttamente mettere dentro il metodo e anche qua questa classe qua potrei dire che trows l'accezione propaghiamo il chiamante quindi in realtà cosa abbiamo fatto abbiamo semplicemente costruito una piccola classe che nasconde la getConnection del driver manager sapendo già qual è la jdbcURL al DAO non è cambiato quasi nulla semplicemente chiama dbConnect anziché driver manager quando vuole la connessione la prima volta la seconda volta anche il DAO non ha più bisogno di conoscere la connessione già la jdbcURL e quindi è più pulito ma questo sa driver manager non mi serve più di qua quindi dbConnect fa la connessione il DAO usa la connessione il passo avanti per ora è piccolo e abbiamo l'abbiamo giustificato soprattutto dicendo se ho tante classi DAO non voglio che jdbcURL compare in più posti diversi perché se poi dovessi cambiarla dovrei modificare in più posti diversi voi siete un pochino preoccupati dal fatto che questa connessione venga aperta e chiusa aperta e chiusa ogni volta che faccio una query e soprattutto ad esempio qua in questo ciclo for questo metodo count by shape viene chiamato tante volte ogni volta viene aperta una connessione fatta una query e chiusa la connessione riaperta subito dopo una connessione all'interazione successiva fatta un'altra query e richiusa la connessione e questo ovviamente rallenta il programma ok e bisognerà trovare una soluzione migliore quello che vi posso dire vi chiedo un po' di pazienza no un paio di settimane di pazienza la vedremo la soluzione che però non passa dal condividere l'oggetto connection il problema qual è voi mi dite ma fai la connection aprila una volta sola all'inizio e la chiudi una volta sola alla fine eh bravo però quando è all'inizio come fa il DAO a sapere qual è la prima query che viene chiamata no e quindi complicherai ulteriormente dovrei mettere in più qua dentro dentro la Bconnect una variabile statica che si ricorda la connessione questa variabile statica può essere nulla e quindi se la connessione non ce la crea se c'è già la riusa e poi ci sia un rischio che se c'è un metodo che alla fine fa connection.close perché magari ci scappa perché siamo abituati a scriverlo quello chiude la connessione e tutti gli altri metodi successivi vanno in errore perché la connessione su cui pensavano di lavorare pensavano che fosse aperta invece è stata chiusa da qualcuno per errore quindi avere una condizione unica che tutti condividono potrebbe semplificare le cose però rischia di essere un po' delicato diciamo così dal punto di vista della gestione degli errori allora noi più avanti vedremo semplicemente modificando questa istruzione qua usando una classe più intelligente di driver manager che si chiama data source come il problema si risolve alla radice cioè avremo una classe che già lei gestisce le connessioni addirittura ne apre più connessioni in parallelo e poi le esegue per una query ma senza chiuderle riaprire ogni volta ma le riusa da una query all'altra ok quindi questo problema di non aprire tante volte le connessioni lo faremo ma lo faremo delegandolo a una classe più furba di driver manager qua dentro e quindi non ci prendiamo noi questa complessità né come classe DB connect né come classe DAO accettiamo che per ora dobbiamo fare tutte queste open and close di connessioni che ci rallentano un pochino del programma soprattutto se dobbiamo fare tantissime migliaia di query ma vi aggiuncio già che tra un paio di settimane vediamo insieme come fare questo ulteriore passaggio che poi non è molto complicato però facciamo così un passo per volte ok questa quindi noi abbiamo inventato questa classe DAO che alla fine avrà dei metodi che si somigliano tutti dammi l'elenco dammi l'elemento se ti do dato un valore eccetera eccetera ti passano dei parametri che i parametri andranno finiti dentro la query faranno le elaborazioni e ritorneranno o un oggetto o una lista di oggetti quasi sempre ok e poi avranno i metodi magari per creare nuovi dati per aggiornare per cancellare ma nella maggior parte dei casi saranno ricerche o letture del database il passo successivo quale sarebbe in sette minuti non riusciamo a finirlo ma il passo successivo sarebbe quello di agganciare questo all'interfaccia utente cioè noi questa operazione qua che abbiamo fatto nel main di prova lo dovremmo agganciare all'interfaccia utente in cui proviamo solo a immaginarcela se proviamo a immaginarcela potrebbe essere qualcosa di questo genere no scusate ho buttato giù ma possiamo fare direttamente potrei fare una cosa di questo genere in cui ora cancelliamo questo ovviamente io potrei avere un'interfaccina che contiene sopra una tendina in cui posso beh non so fate mettere un hbox così così riesco a mettere due cose una label e una combo box e quindi mettiamo a posto solo le spaziature ok anche qua e poi sotto potrei avere invece una label in cui metto il risultato quindi la prima label sarà forma la seconda label oppure una text area dipende è il numero di uno avvistamente adesso è molto brutto come spaziatura ovviamente lo sappiamo però avremo una cosa di questo genere c'è una finestra in cui scelgo la forma quindi in questa tendina compaiono tutte le forme degli UFO e questo lo prendiamo dalla prima query e poi possiamo avere mi serve ancora un bottone mettere qua a fianco che chiamiamo conta questa box vediamo un minimo di spaziatura tra gli elementi e quindi selezionato l'elemento schiaccio il bottone conta e lui sotto mi scriverà il numero dei avvistamenti dati con quel tipo di forma questa cosa qua la sappiamo già fare però possiamo fare controller di mezzo ci starà un model che di fatto fa da passacarte tra il controller e il DAO quindi questo modello conterrà la lista delle forme e conterrà dei metodi che il controller potrà chiamare per chiedere al modello dammi la lista delle forme e una volta che l'ha chiesto il controller il modello potrà chiedere al DAO la lista delle forme questo ritorna indietro viene memorizzato nel modello il controller può visualizzare nell'elenco può creare la tendina e così via quindi noi avremo sempre il controller avremo sempre il modello che adesso diciamo così non abbiamo tempo di costruire non qua model scemo ma qua sotto new package punto model che conterrà la classe model la classe model a sua volta userà la classe DAO in questo caso site in DAO quindi il controller chiama i metodi del modello il modello chiama i metodi del DAO il DAO restituisce dei dati il modello se li memorizza quindi sicuramente tra i dati privati del modello ci sarà le forme la lista di string delle forme dell'UFO e questo è un dato che il DAO calcola ma lui non se li memorizza invece il modello invece avrà come compito quello di memorizzarlo ok e poi renderlo disponibile al al DAO quando serve ok allora per oggi ci possiamo fermare qui allora si Federico mi chiede come fare a impostare gli item del combo box c'è una property items quindi si fa il nome della combo box punto get items punto add oppure add all per aggiungere tutti gli oggetti all'interno della della combo box che nasce vuota ovviamente la programmo però c'è un problema di quando farlo quindi un problema un po' un po' dedicato ecco di trovare bene quando è il momento giusto però per ora ci arriveremo quindi noi dobbiamo in qualche modo in questa settimana abbiamo buttato giù un po' di contenuti parecchi su come c'è dal database e quindi faremo su questo e poi come organizzare i dati all'interno del nostro pattern mvc ci manca l'ultimo pezzo di collegare il controller al modello io adesso vi commetto vi salvo questo programma così com'è e poi in giornata vi salvo sempre nel branch soluzione una versione completa in cui si è agganciato all'interfaccia utente così potete vedere i passaggi successivi che non siamo riusciti a fare insieme ok semplicemente il controller per rispondere a risposta a Federico di fatto per dire in due parole la costruzione dell'interfaccia utente viene completata nel metodo set model quindi il metodo set model è il momento in cui il controller conosce il modello e quindi può chiedere al modello dimmi cosa c'è in questa tendina prima non si può nel metodo initialize non si può perché il controller non conosce il modello quindi non saprebbe a chi chiedere il contenuto della tendina quindi noi predisponiamo un'interfaccia e poi dove c'è da riempire dei valori in una tendina in una tabella eccetera lo facciamo dentro set model e quindi vedrete che se lo fate lì vi va tutto a posto comunque come vi dicevo più tardi vi condivido anche questa soluzione che usarà questo metodo ok direi che abbiamo chiuso per oggi faccio subito il comment di questo e come vi dicevo aspettatevi un comment successivo in cui ci sarà anche la parte di frontend di JavaFX vi ringrazio e vi saluto fino come al solito alla settimana prossima nel frattempo come sempre su Telegram in qualunque momento possiate contattarci buona giornata e vi saluto